Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ja benissimo. il finger towel, che il priest usa per dryare il finger, ha il small red cross in la parte del cuore. Now, I'm going to show you how to set up the priest's vestments for low mass. First, it's the chasuble. You lay the chasuble flat on the vesting table with the tag towards the bottom. You lift the back flap up, like so, and then you bring the strings up in sort of like a W. Next, the stoll. And the stoll is set up to form the letter H. Next, the maniple. The maniple is set up to form the letter I. Next, the cincture is set up to form the letter S. Next, the elb is put over everything. The tag always towards the bottom. The arms, you fold in. You bring the bottom up. And then you partition the opening so that the priest can stick his arms into the albizli. And then over everything goes the ammas. The cross always facing the top. And the strings nicely arranged. And that is how you set up the vestments for low mass. And that is how you set up the letter S. Grazie. 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 We're going to begin the Low Mass now. Procitamos en Pache. In nomine Christi. Amen. Bring it. Fucking Spirit. God. God. For Christ. God. God. post. Canter. Komalam. God. 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 In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In triboratari Dei. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In triboratari Dei. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Filii et Filii et Spiritus Sancti. Sicurirat in principi nunc et semperet in saecula saeculorum. Amen. in nomine Patris et Filii 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 Per Dominum Nostrum, Iesum Christum, Filium Tum, quitecum vivere regnat in unitat Ispiritu Sancti Deus, per omnia secula a seculorum. Amen. The Epistle. Lectio Epistole, Beate Pauli Apostoli Ad Ephesios. Deo gratios. The Graduo. The Alleluia. The Gospel. The Gospel. Laus Dei be Christi. Go back. Dominus Phobisum. Edicum Spiritu Tuo. Oremos. The Offertory. Laus Dei be Christi. Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Amen. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con den equitiam insidias diaboli esto presidium, e imperi ili Deo, supliceste per camor. Luce, princeus, militei celestis, satanam, aliosquei spiritus malignus, qui ad perditionim animaram per vaganto remundo, divina virtute e ne pernum detrude. Amen. Corrie Isu Sacratissimum. Miserere nobis. Corrie Isu Sacratissimum. Miserere nobis. Corrie Isu Sacratissimum. Miserere nobis. Corrie Isu Sacratissim. 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 Grazie.